Cresce il malcontento dentro il Consorzio di tutela dei formaggi Valtellina, Casera e Bitto, con riguardo all'organizzazione dell'edizione numero 112 della Mostra del Bitto, in programma a Morbegno il 12 e 13 ottobre prossimi. Vincenzo Cornaggia, presidente del Consorzio, che per anni ha coordinato in prima persona la gestione della Kermess, stigmatizza quelli che definisce ritardi nei preparativi non ammissibili. Siamo ormai a agosto e pensare di organizzare una manifestazione così importante e promuoverla in così poco tempo, ritengo che la cosa non sia per niente facile e tutt'altro che fattibile. Il nostro ruolo nella Fiera del Bitto sarà che come Consorzio senz'altro dobbiamo essere presenti perché è una cosa che ci riguarda molto da vicino. Siamo tuttora, però nessuno ci ha contattati, nessuno ci ha chiesto oppure ci ha relazionato quello che si intende fare. Ci siano stati anche un po' di cambi di amministrazioni e quant'altro, quindi anche lì ha portato un po' ad allungare i tempi, però io torno a ripetere di preciso perché non siamo stati contattati, non lo so. Il presidente si è espresso anche sulla possibile sede della mostra, che l'anno scorso era tornata in parte al polo fieristico. La location ideale per una mostra così sia al centro di Morbegno, anche perché con tutto quello che ha si presta in modo naturale a una manifestazione così importante. Un altro aspetto evidenziato da cornaggia riguarda la tipologia di merci vendute, che nell'edizione passata non sono risultate sempre attinenti alla tradizione locale. Per quanto riguarda la casera, la premiazione e quant'altro, la porterei di nuovo a Piazza Sant'Antonio, anche perché, torno a ripetere, è un luogo che si presta e si presta in modo egregio a queste cose. Vorrei magari che nel centro di Morbegno ci fossero bancherelle un po' più mirate e dei prodotti un po' più vicini alla nostra terra. Dal canto suo, la comunità montana Valtellina di Morbegno, con la determina pubblicata il 22 luglio scorso, ha approvato il programma preliminare della manifestazione, individuando nel consorzio turistico Valtellina della città del Bitto il partner per la sua messa a punto. 200.000 gli euro stanziati, di cui 40.000 finanziati con contributo regionale. Il canovaccio su cui lavorare appare quindi steso, anche se i dettagli restano da definire, e l'auspicio è che la necessaria quadra si trovi con tutti gli attori. Grazie.